In questa meravigliosa profezia pittorica di 400 anni fa, Cecco del Caravaggio ci mostra la vittoria del no al referendum del 4 dicembre, mentre caccia dal tempio della democrazia italiana la finanza internazionale, i grandi banchieri, i palazzinari, una classe politica degenerata. E' una bella profezia che speriamo sia veri, certo si avvererà se gli italiani non si comporteranno come quei buoi, buoi sacrificali pronti ad essere sgozzati sull'altare della finanza e degli interessi privati. Non comportiamoci come buoi, votiamo no.